A Teramo continuano spediti i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria in Viale Crucioli. L'Adsu, azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, ha giudicato la gara per l'affidamento dei lavori, di completamento del miglioramento sismico, la sistemazione del timpano, dei cornicioni e tinteggiatura dell'edificio, che affaccia su Viale Crucioli, lavori che inizieranno presumibilmente per la seconda metà di novembre. Inoltre sono stati aggiudicati i lavori consistenti nella sistemazione del parcolato Viale Cavour, oltre all'interrato e alla fondazione del nuovo fabbricato, destinato alla zona alberghiera della residenza. Il progetto procede in modo abbastanza cerere, è una cosa a cui teniamo moltissimo, in quanto questa è una delle prime strutture all'interno della città, strutture storiche per la città di Teramo e la riqualificazione di questa struttura con la destinazione poi che ne verrà fatta praticamente la nostra ambizione, creare e far diventare Teramo veramente una città universitaria, quello che poi abbiamo sempre detto, dove lo studente, oltre a trovare un ateneo di una certa importanza, trova anche tutte quelle strutture dove praticamente veramente possono trovarsi al loro agio. Il progetto è partito, oramai stiamo in una fase abbastanza accelerata, Questi due bandi che inizieranno per la seconda metà di novembre sono caratterizzati dalla parte di miglioramento sismico e tutta la parte esterna dell'edificio principale che è il fronte a Viale Crucioli, che è l'edificio rappresentativo, che ha gli elementi architettonici più di pregio e c'è tutta la parte invece di movimenti di terra importanti che è la sistemazione del parco retrostante verso Viale Cavour e tutta la fondazione. A seguire di questo, quindi pensiamo per massimo entro gennaio, porteremo l'altra gara che sarà di oltre un milione di euro, che è tutta la parte prefabbricata della nuova residenza universitaria, della parte alberghiera della nuova residenza universitaria. Poi a seguire, pensiamo per maggio-giugno, la gara più grande, che è quella di 8 milioni di euro, che completerà l'opera.